Siamo con Antonio, lui è uno dei vincitori della borsa di studio con il programma East Exit, che il Siena Art assegna a studenti dell'est europeo. Cosa ti aspetti da questo periodo di studio a Siena? Ciao, mi chiamo Antonio Janewski, sono venuto da Macedonia, dalla facoltà di fine arts di Skopje e vorrei sapere un po' di lingua italiana e continuare il mio studiamento in arte qui in Siena. Il mio nome è Antonio, vengo dalla Macedonia, dove studio arte e sono qua in Italia con la speranza di poter studiare la lingua italiana e soprattutto di poter continuare il mio percorso artistico. Grazie a tutti.